come promesso il video del nostro giro turistico ci troviamo anzi siamo appena giunti qui a cori un piccolo paesino della provincia di latina e adesso andiamo a visitare un qualcosa di veramente veramente bene ragazzi a questo punto ci addentriamo nel vero e proprio centro storico si è appena iniziato il tour ma mi è sembrato un po' sotto tono è un po' fuori forma sbaglio dai 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 ragazzi se io vi dico che fresco c'è qui dentro quasi quasi passiamo la giornata qui dentro anche le dite ragazzi qui è molto più fresco è no ragazzi so sorry for the heartache and sing goodbye ragazzi siamo quindi giunti al tempio d'ercole guardate che spettacolo un vero e proprio piccolo dunque ragazzi se avete intenzione di organizzare una gira fuori porta veramente molto molto vicino è un posto che io vi consiglio vivamente ragazzi c'è una pace un profumo di natura di fiori bello 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 adesso ditemi voi come si può evitare di effettuare un volo qui con una cosa del genere quindi ci prepariamo grazie a tutti 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 grazie a tutti